Mediaset lancia la sfida con Silvia Toffanin e Maria De Filippi, arriva in prima serata Verissimo Amici, ecco cosa succederà Le due conduttrici Mediaset saranno al timone di un'esperienza mai vista prima, un programma in prima serata che metterà in luce i successi di Amici attraverso la conduzione di Verissimo Ecco cosa vedremo sul piccolo schermo e quali sono i dettagli del progetto Ad annunciare l'importantissimo evento è stato Pier Silvio Berlusconi in persona durante la presentazione dai palinsesti Mediaset La prossima stagione televisiva sarà quindi ricca di novità e su tutte spunta burla che riguarda un programma condotto direttamente dalla regina di Mediaset con la collaborazione di una delle conduttrici più brillanti Verissimo e Amici insieme per un programma unico per Mediaset, ecco tutti i dettagli Silvia Toffannin e Maria De Filippi collaboreranno per dar vita a un talk show dedicato ai talenti di Amici, coloro che hanno passato all'interno del programma un periodo che li ha condotti alla fama Non si hanno molti dettagli della trasmissione, ma dovrebbe essere in prima serata, e premiare in qualche modo i volti diventati più famosi all'interno del talent show A parlare nel dettaglio di questo progetto è il settimanale Mio che ha dedicato una lunga analisi a questo evento Ecco le parole del settimanale che vede in Silvia Toffannin proprio l'erede di Maria De Filippi Anche se dovrebbe mancare molto alla pensione della conduttrice di Mediaset, già si pensa a una sua sostituta e a quanto pare la regina avrebbe puntato proprio sulla compagna di Pier Silvio Berlusconi Secondo Mio infatti, Maria De Filippi ha fatto la sua mossa e ha scelto la sua erede, Silvia Toffannin Il passaggio di testimone verrà sancito nella prossima stagione televisiva e rappresenterà un momento cruciale per il piccolo schermo, forse una nuova era per la televisione italiana Per la Toffannin si tratterebbe di una sfida importante infatti approderebbe per la prima volta la fascia del prime time, la più importante per l'azienda in termini di ascolti Non si sa ancora quali ex di amici parteciperanno al programma, ma molti di loro sono diventati famosi e oggi sono simboli della musica italiana Basti pensare a Elodie, Emma Marrone, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, De Coloros Insomma non mancano coloro che sono diventati davvero famosi dopo il programma e chiaramente è impossibile non menzionare Stefano De Martino Quest'ultimo però ha un contratto blindaticismo con la Rai per cui probabilmente non sarà presente alla trasmissione